Per quanto riguarda la situazione dell'Italia, io penso che noi tutti sappiamo che l'Italia è stata colpita da questa pandemia in maniera molto molto dura. È stato il primo Paese a dover decidere di misure dure e le misure di lockdown sono iniziate prima che in altri Paesi. E le conseguenze per l'economia sono state drastiche. Allo stesso tempo, come avete visto dalle nostre previsioni, prevediamo una ripresa abbastanza forte nella seconda metà dell'anno e anche nel 2021. Io penso che le misure prese dal Governo contribuiscano ad andare in questa direzione e penso che sia il Governo a dover decidere sulla linea di credito rafforzata dell'ESM. Noi come Commissione ci occupiamo solo dell'ammissibilità e l'ammissibilità, come sapete, verrà comunicata domani all'Eurogruppo, a tutti gli Stati membri. E poi saranno gli Stati membri che dovranno decidere se utilizzare questa linea di credito. E come sapete, in Italia c'è un dibattito sull'argomento, ma non è la Commissione che deve dare il suo parere. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale tedesca, la sentenza di Karlsruhe, dunque, come ha appena detto Enric Mamer, dopo aver sentito il servizio giuridico non abbiamo parlato al Collegio. E ci sono due punti molto chiari. Noi ribadiamo il primato del diritto europeo, le sentenze della Corte di Giustizia europea sono vincolanti per tutti i tribunali nazionali e, in secondo luogo, noi abbiamo sempre rispettato e sosteniamo appieno l'indipendenza della BCE per quanto riguarda l'attuazione delle politiche monetarie. Poi studieremo questa sentenza nazionale in maniera più dettagliata per discutere.